Buongiorno a tutti ragazzi, sono qui oggi con la player review di Jonathan Soriano Tots un giocatore veramente grandissimo, molto molto forte, che si presenta nella sua versione Tots con 75 di velocità 95 di tiro, mischiata a 99 di finalizzazione, grandissimi rigori, grandissima potenza tiro passaggio 90, potete utilizzarlo anche come COC o come attivo, lo consiglio in coppia con Ruben Castro la velocità secondo me è un pro, 77 sprint speed e 72 accelerazioni che in game sembrano un po' di più grandissima agilità, resistenza, fisico, veramente molto forte, tra i suoi contro che ho inserito ci sono le tre stelle piede debole, le tre stelle skill e anche il work rate medio basso è anche abbastanza alto, 1,80m ed è molto bravo a un grande salto, 93 di jumping e anche grande precisione di testa quindi ve lo straconsiglio, costa pochissimo, 20.000 crediti, prendetelo